Trasporto d'urgenza al Gaslini di Genova per una bambina di sei anni che ha rischiato di annegare in una piscina a Sesta Godano. I fatti risalgono al pomeriggio di oggi quando un giovanissimo bagnino ha notato la bimba in acqua e si è buttato per salvarla. La piccola era priva di sensi e il giovane ha seguito attentamente le indicazioni fornite di telefonicamente dall'infermiere della centrale operativa. Così il bagnino ha iniziato subito la rianimazione cardiopolmonare e applicato il defibrillatore semiautomatico. Intanto sono state inviate sul posto la Croce Rossa di Sesta Godano e l'automedica Delta 3 di Brugnato. Medico e infermiere del 118 hanno continuato la rianimazione avanzata sul posto fino all'arrivo dell'elicottero Drago da Genova. Dopo 50 minuti il cuore della bambina ha ripreso a battere. In condizioni serie è stata trasportata all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.